Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina resterà in attività fino al 31 luglio. Lo ha annunciato il presidente della regione siciliana Renato Schifani, in seguito alla comunicazione del Ministero della Salute sul parere favorevole emesso, di concerto con il Ministero dell'Economia, alla proroga fino a fine luglio della convenzione tra l'ASP di Messina e l'ospedale pediatrico Bambin Gesù per l'attività del reparto istituito nell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Il Ministero della Salute, ha aggiunto il governatore siciliano, ha accolto la richiesta che il mio governo aveva avanzato nei giorni scorsi per mantenere in funzione il reparto, in attesa che entri a regime la cardiochirurgia pediatrica del civico di Palermo. In questi sei mesi, comunque, va trovata una soluzione definitiva e continuiamo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, non nascondendo le difficoltà dei vincoli posti dal vigente decreto Balduzzi, ha sottolineato il presidente Schifani.